Futuri Maestri è un progetto che si compone di due fasi. C'è un gruppo, i 50 special, che sono il perno degli spettacoli. Parallelamente effettuano laboratori in varie scuole elementari, medie, superiori. E questo progetto affronterà 5 temi fondamentali che sono amore, guerra, migrazione, lavoro e crisi. I protagonisti saremo noi, ragazzi, faremo capire agli adulti qual è il nostro punto di vista. Siamo 90 noi, più 300 comparse ogni sera che si alternano per un totale finale di mille ragazzi coinvolti. Eh sì, siamo tanti. Mille bambine e bambini adolescenti vanno in scena ogni sera per nove sere all'Arena del Sole, cioè nel teatro di prosa più bello e più importante della città di Bologna, prendendone possesso attivamente per dire la loro. Un percorso di bellezza partecipata e di capacità di comunicazione attraverso canali molto diversi tra loro. Un'arte che in qualche modo nasce dall'ascolto di più voci, di più competenze. I ragazzi questo l'hanno fatto. Si sono presi l'Arena del Sole per nove sere per farci sentire la loro di voce. Quello che passa dal palco al pubblico è davvero una grande carica di energia. È stato incredibile. Grazie. 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 Grazie.